L'ultima gara casalinga della regular season della VL premia l'Umana Reier Venezia che con una prestazione di spessore ha la meglio sulla generosità dei pesaresi che cadono alla vitrifrigo arena col punteggio di 75 a 85, un più 10 per i Veneti che si materializza in prossimità dell'intervallo e che la Reier di fatto riesce ad amministrare fino alla sirena. È una sconfitta che lascia comunque aperta la possibilità dei play-off per Pesaro che può giocarsi l'accesso nelle migliori otto fra una settimana nella prossima trasferta di Napoli. Non l'abbiamo giocata al massimo, abbiamo cercato di far fronte a una serata dove i nostri avversari hanno avuto la capacità di imporre la propria fisicità, la propria struttura, questa è una squadra abituata a arrivare a questi momenti della stagione con alle spalle un vissuto importante di una stagione di Euro Cup che li ha portati ai play-off, che adesso intravedono la possibilità di entrare nella post-season in una posizione che li può candidare tranquillamente insieme a Brescia ad essere una legittima outsider. E stasera lo abbiamo visto, abbiamo misurato quanto fosse difficile per noi scardinare la loro fisicità, la loro stazza in una serata poi dove nemmeno le percentuali ci hanno sostenuto e nemmeno la qualità delle nostre scelte ci ha sostenuti. Però adesso si tratta di ottenere ancora una settimana di sacrificio, di impegno perché ci vogliamo giocare fino in fondo le chance che abbiamo per centrare la post-season. Ci aspetta una partita durissima perché troveremo Napoli galvanizzata dal successo di stasera, è la salvezza conseguita, è una squadra che già noi soffrimmo nella partita di andata a figurarsi con l'aggiunta di Gudaitis che tipo di avversario troveremo e che tipo di ostacolo ci sarà da superare. Però facendo tesoro anche di quanto visto stasera io spero che siamo capaci ancora una volta di dimostrare che si possa alzare un po' l'asticella e chiedere qualcosa in più al nostro gioco perché se realmente abbiamo l'ambizione di centrare certi traguardi e l'ambizione di competere a questi livelli serve migliorare il nostro rendimento. Quindi ci sono sette giorni per dimostrare che possiamo essere a Napoli una squadra migliore di quanto visto stasera. Il Weekend di Sport ha detto anche di una straripante Italservice che venerdì sera ha strapazzato al palafiera la Simbio Spetrarca vincendo lo scontro al vertice con i Padovani per 5-0. Ha referto un autorete, un gol di Tony Dandel e la tripletta di uno scatenato bolo a completare il 5-0. Alle spalle dell'Italservice non molla la caccia all'Olympus Roma con i pesaresi che cercheranno di blindare la vetta già nel turno infrasettimanale di domani martedì 3 maggio in casa del Polistena. Una partita che sarà trasmessa in diretta alle 20 su Rossini TV. Si chiude con una vittoria il campionato di Serie A della Fiorini-Pesero Rugby che passa a Napoli 37-13 e chiude la stagione con un ottimo quarto posto nel girone. Da una palla ovale all'altra nel football americano i Ranocchi Angels non falliscono la missione playoff. A Imola serviva una vittoria per prendersi almeno il terzo posto che dà accesso alla post-season per la promozione in A2 e i ragazzi di Campbell trovano il colpo di Reni per risollevare la stagione con un'econvincente 22-0.